Parliamo del domani, parliamo anche specificamente dell'Italia, come la vedi sotto Renzi, sotto le strutture, le riforme strutturali che sono stati annunciati? Io penso che Renzi si sta rendendo conto quanto grande sia il problema della burocrazia italiana, una burocrazia che non permette di reggere la democrazia, quindi tante idee buone, c'è da augurarsi che lui possa continuare, però il problema maggiore in questo domenica dell'Italia è che per tanti anni non si è ristrutturato il sistema Italia. Quindi significa anche se lui vuole fare le cose giuste, non li può fare perché il sistema politico italiano fondamentalmente non aiuta? Io penso che molte delle sue decisioni siano delle decisioni non politiche ma logiche, però la difficoltà è di poterle attuare queste e quindi dovrà lottare con tutto il sistema, compresi i sindacati, per poter controllare la spesa pubblica e soprattutto rilanciare l'economia. Grazie.